Lo sai che l'acqua potabile può condurre onde elettromagnetiche invisibili? Queste onde invisibili ci circondano. Sono necessarie per far funzionare le apparecchiature Wi-Fi e gli smartphone. Le onde elettromagnetiche aumentano il potenziale Redox o RP dell'acqua potabile. Una riduzione del Redox o RP è fondamentale per l'idratazione cellulare e il sistema immunitario. L'app Cellwall Bing Energizer sormonta queste onde elettromagnetiche stressanti, sfruttando le tecnologie della meccanica quantistica con frequenze biofotoniche. I programmi energizzanti naturali dell'app riducono i valori dell'ORP nell'acqua potabile e in altri liquidi. L'app Cellwall Bing Energizer riduce anche la tensione superficiale dell'acqua potabile, importante anche per l'idratazione. Per ricevere tutti questi importanti vantaggi, è sufficiente scaricare l'app Cellwall Bing Energizer su qualsiasi smartphone e mostrare i biofotoni sui liquidi prima di consumarli. I fotoni delle app possono potenziare acqua potabile, il succo di frutta e le bevande. Noterai che le bevande e l'acqua avranno un aroma e un gusto più freschi. L'app può essere utilizzata su creme per il viso e l'ozioni per il corpo, che ne migliorerà la capacità di assorbimento. Puoi persino creare la tua acqua spray nebulizzata per idratare la pelle e per ridurre le rughe. Puoi utilizzare le app dove vuoi, sempre in modo molto efficace per migliaia di chilometri, semplicemente attivando la luce della fotocamera del tuo smartphone o dal tuo computer durante una videoconferenza. Dal vivo, con un bicchiere di succo o acqua potabile energizzati dai fotoni, ci sentiremo anche rinfrescati e godremo di un livello ridotto di ORP. Dopo aver usato i biofotoni dell'app, scoprirai che i bambini ameranno il gusto del loro succo e del latte e ai tuoi animali domestici piacerà acqua potabile energizzata. Cell Wellbeing Energizer App ha un prezzo economico. Ti daremo un'applicazione aggiuntiva per creare uno spray nebulizzato rinfrescante e una che ottimizzi l'equilibrio e le prestazioni. Siamo certi che ne beneficerai. Contattaci per avere Cell Wellbeing Energizer App. Energizzati! Chiamaci oggi per il tuo pass per il benessere. Epi Genetica Nutraceutica Nutrizione Prevenzione Epi Nutracell Viale Italia 147 La Spezia Per info epinutracell chiocciola gmail.com 393 91 42 000 0187 1780 859 Per video è assistere il nuovo PIERC